pranzo domenicale scaccia crisi per belen e stefano qualche settimana fa si era vociferato di una crisi tra belen rodriguez e stefano de martino ma una foto postata dalla mamma dell'argentina in cui appariva di sfuggita il conduttore aveva dato ad intendere che la notizia fosse una fake news eppure la coppia continua a non farsi vedere sui social e non è arrivata nessuna smentita ufficiale da parte dei diretti interessati i due sono passati dal mostrarsi spesso insieme a sparire completamente dai radar ciò che ha destato ancora di più il dubbio è una situazione simile si presentò quando si erano lasciati l'ultima volta nel 2020 ebbene a svelare la verità ci ha pensato la sorella della 38 n cecilia rodriguez insieme al fidanzato di checiu ignazio moser i quattro hanno approfittato della domenica per passare dei momenti spensierati in famiglia l'ex vippona ha pubblicato ieri 12 febbraio delle storie in cui immortalava la sorella ai fornelli mentre l'ex ballerino assaggiava le pietanze dopo tanto tempo marito e moglie sono finalmente riapparsi insieme pubblicamente si vede che è arrivato qualcuno a portarmi da mangiare ha detto ai suoi seguaci cecilia inquadrando il cognato insieme a loro anche i figli della conduttrice de le iene santiago e luna marì l'ex di francesco monte ha condiviso prima una foto insieme all'unico figlio di belen e stefano con la caption mi primer amor subito dopo è stato il turno della piccola di casa rodriguez ed ecco che è apparso un tenero video di zia e nipote mentre ballavano insieme tramite il suo profilo instagram la showgirl ha smentito in un solo colpo due presunte crisi la sua con il futuro marito ignazio e quella della sorella il quadretto familiare visto dalle storie di cecilia ha scacciato qualsiasi dubbio e ha rimarcato l'intesa tra i cognati a questo punto l'assenza social dei due coniugi potrebbe essere collegata semplicemente ad un maggiore desiderio di privacy e non ha nulla a che vedere con un'ipotetica tensione matrimoniale grazie a tutti grazie a tutti